Sarà la perizia dei vigili del fuoco a stabilire se si sia trattato di un atto doloso o di un incidente. La vecchia chiesetta in legno dedicata a Sampio nel quartiere Isola Verde di Margherita di Savoia è stata ridotta ad un cumulo di macerie da un incendio che ne ha devastato completamente gli interni. Erano da poco passate le 11 di ieri sera quando il parroco Don Roberto Vaccariello ha trovato l'edificio oggi adibito a salone parrocchiale dopo la costruzione della nuova chiesa di Sampio completamente avvolto dalle fiamme. Al suo interno si trovavano non solo arredi sacri ma anche i viveri destinati alla Caritas. Da queste parti un fatto del genere non si era mai visto prima. I carabinieri che indagano sull'accaduto non escludono nessuna ipotesi ma quella più accreditata sembra portare alla situazione in cui versano gli occupanti abusivi di alcuni immobili comunali che in queste ore stanno per essere sfrattati dalle forze dell'ordine. La vecchia parrocchia di Sampio era stata destinata ad accogliere alcune delle famiglie di margheritani che da oggi rimarrebbero senza un tetto sulla testa. Qualcuno potrebbe non aver gradito questa soluzione al punto da ricorrere ad un gesto estremo come l'incendio doloso per farlo capire chiaramente all'amministrazione. Un'ipotesi che se confermata ci lascerebbe profondamente addolorati ha sottolineato il vescovo della diocesi locale Monsignor Giovambattista Bichierri. Questo è un atto che è proprio di uccisione di una umanità che grida aiutateci. Abbiamo bisogno di essere accolti. Purtroppo la cultura dell'indifferenza è così forte che rende veramente insani sino poi a spingere a compiere gesti che sono veramente inqualificabili. Quello che è stato commesso qui in Margherita, in questo luogo, che ha fatto nascere una comunità parrocchiale è un atto dissacrante. Lo sgombero dell'ex scuola media di via Risorgimento del vicino ex mercato coperto è iniziato questa mattina poco prima delle nove. Un dispiegamento di carabinieri e polizia municipale ha controllato che le operazioni di sfratto delle famiglie che da anni occupano abusivamente quei luoghi, dichiarati inagibili e pericolosi, avvenissero senza particolari incidenti. Rimane ora il problema di dove sistemare le circa 20 famiglie che da oggi non hanno più un luogo dove poter vivere in pianta stabile. Alcune hanno già occupato abusivamente l'ex asilo Kennedy, immobile anch'esso dichiarato inagibile. Altri hanno trovato alloggio temporaneo presso gli spogliatoi del tenso statico Piazzolla messo a disposizione dal comune di Margherita di Savoia. La situazione di difficile gestione, ammette il sindaco Paolo Marrano, la speranza è di trovare al più presto una soluzione definitiva a questa emergenza. Speriamo adesso di trovargli una sistemazione. Molti so che si sono in qualche modo sistemati presso altre famiglie. Qualcun altro si è dato all'abusivismo ancora. Qualcuno, noi abbiamo messo a disposizione quello che avevamo disponibile, il tenso statico, i spogliatoi, tutto quello che è stato possibile fare l'abbiamo fatto. L'ultima soluzione trovata era proprio la parrocchia di San Pio andata in cenere questa notte. Gli abitanti del quartiere Isola Verde non si danno pace, passano davanti all'ex chiesetta, fanno un rapido segno della croce per poi mettersi le mani nei capelli dopo quello che è accaduto. Dicono si è veramente toccato il fondo.